L'Arezzo ci ha preso gusto a vincere il rimonte e dopo l'1-3 con la Carraghese soffre e poi sorpassa anche il Siena nel sentitissimo derby. Oltre a 3.000 spettatori al comunale sudano freddo dopo il gol di Marotta al secondo minuto. Nella ripresa la mossa decisiva è l'ingresso di Erpen che in tre minuti prima pari già di testa, poi propizia l'espulsione di Masullo e quindi inventa su punizione il gol del 2-1. A Rezzo i suoi tifosi vanno in paradiso in testa a quota 7 in attesa degli altri risultati. A classifica valiamo la 30 dicembre perché poi dal 30 dicembre in poi cambia completamente, inizia un altro campionato. È stata una vittoria della voglia, del cuore, del gruppo, di questi ragazzi che hanno saputo lavorare sulla fatica, che hanno voluto andare a recuperare la gara. Perché qualitativamente so che la squadra può fare molto meglio, so che la squadra ha le capacità per potersi esprimere meglio. Abbiamo sofferto tantissimo i loro due attaccanti. Questo purtroppo tutte le volte ci metteva nelle condizioni di rincorrere perché erano bravi a spizzare, andare, tenere, proteggere. Troppo, troppo. Questo è stato un po' il motivo per cui ho preferito nel secondo tempo passare a una difesa a tre. Volevo che ci fosse sempre uno a lavorare sulle traiettorie d'anticipo e uno invece a lavorare sulla profondità e avere la capacità di iniziare un pochettino di più a giocare da dietro. Perché se noi ci mettiamo a buttare la palla lunga siamo meno efficaci e meno pericolosi rispetto a quando riusciamo a costruire o arrivare a mettere in condizione alcuni nostri giocatori di fare l'uno contro uno con l'avversario. Però si passa anche attraverso queste partite dove non le vinci solamente perché qualitativamente dimostri di essere più forte ma perché dimostri di avere un pochettino più di voglia, un pochettino più di agonismo, un pochettino più di cuore. E sono le partite che poi alla fine paradossalmente, quelle che anche soffri, ma riesci ad attirare ancora più simpatia verso i nostri tifosi. Però io da allenatore voglio che la squadra si esprima in maniera diversa perché ha le potenzialità per poterlo fare. Molto ansiogena, mi ha fatto venire un po' di gastrite però sono felicissimo perché è stata una partita vissuta minuto per minuto. Inoltre tutti pensavano, anche i giocatori, che quel primo gol era un fuorigioco. Quindi diciamo che la rimonta per me è stato uno stravincere. Io voglio l'Arezzo in queste posizioni a lungo. Ecco, una stagione in cui ci sono anche partite come questa, come quella di Carraga, che pur soffrendo andando sotto si rimonta, possono essere segnali di un vento cambiato? Ma il vento è sicuramente cambiato, voi da intenditori di calcio lo sapete meglio di me, perché qui ci sono tutti i professionisti. Inoltre il gruppo è molto coeso e questo mi ha fatto infinitamente felice questo fatto. Quindi non ci sono tra professionisti che può accadere delle rivalità o altro. Voglio dire un piccolo episodio che prima della partita con Erpen nel corridoio, io ho detto Erpen mi devi qualcosa, mi ha detto sicuramente a fine partita gliel'avrò dato. Ha mantenuto la promessa. Grazie.